Girerà la Puglia anche per tutto il 2019 con le sue ricette di cucina e continuando a raccontare di uno dei marchi di arredamento più innovativi e che sta sbaragliando il mercato non più solo in Puglia, non più solo al sud. Anna Falchi ha rappresentato il marchio Nuovo Arredo anche nella follata fiera La Mia Casa, che è diventato un appuntamento di rilievo a Gravina di Puglia. Se non avessi fatto l'artista comunque con la mia fantasia eccetera avrei optato sul mondo dell'arredamento perché è proprio una passione innata che ho perché sono una donna che vive anche la casa, sono anche una casalinga come è dimostrato appunto a me piace molto cucinare, fare la spesa eccetera e mi occupo della mia casa, mi piace che la casa per esempio non sia mai finita, ogni giorno, magari non ogni giorno però molto spesso gli do la nota di cambiamento così e quindi sono molto attenta alla tecnologia, alle cose che avanzano, ai nuovi prodotti ed è per questo poi che ho sposato questa azienda che mi segue e soprattutto sostiene le mie avventure. Con Nuovo Arredo Anna Falchi si esibisce in show cooking di primo ordine accompagnata dalla chef Palma Donofrio con una chef così le tentazioni di gola per Anna Falchi sono sempre dietro l'angolo. Assaggio tutto ma basta diciamo non abbondare, l'importante è stare attenti alle quantità e alla qualità chiaramente però insomma in Puglia non ti sbagli mai con la qualità dei prodotti. Tante bontà da far assaggiare anche alla gente che si affolla armata di telefonini davanti allo stand Nuovo Arredo nella preparazione però tutti possono apprezzare la qualità degli allestimenti delle cucine Nuovo Arredo che ormai prevedono tecnologie avanzatissime a prova di chef. Oggi userò un piano cottura elica di Tesla, cioè Tesla è chi sta facendo la macchina che guida da sola e infatti ho detto ma io voglio questo piano cottura anche a casa e ovviamente tornerò a casa e troverò il mio che è un gran bel piano cottura ma non è certo questo quindi grande invidia. Oggi ovviamente facciamo proprio quello che potrebbe essere il piatto nazional popolare è quello che ci ha consentito a tutto il mondo di parlare di cucina di made in Italy ovvero la pizza lavorerò sul forno bacon pizza pro siamo a 320 gradi quindi insomma la temperatura giusta per fare in 5 minuti una pizza come in pizzeria. Tecnologia e ingegneria degli spazi non si fermano alla cucina è un progetto sviluppato in particolare per le case più piccole quello che Nuovo Arredo ha chiamato Atom. È l'ideale per ottimizzare degli spazi di un piccolo appartamento da 25 metri quadrati a 60 metri quadrati con una parete bifacciale che è movente con un letto che scende dal basso verso l'alto con altre soluzioni, la tv che ruota per ottimizzare al meglio gli spazi che sono ahimè sempre un po' più ristretti nelle nostre città. Pareti che si spostano riducendo la cucina per le ore da passare sul divano o a letto e che restituiscono spazio alla zona a giorno quando è il momento di preparare un buon piatto ottimizzazione degli spazi grazie alla tecnologia che entra anche nelle cose per esempio nei tessuti dei divani. L'acqua clean che è un'innovazione su questo nuovo tessuto ideale per chi ha bambini o animali in casa e è soggetto a essere pulito molto velocemente. La filosofia di Nuovo Arredo però non cambia tutta questa tecnologia e il design all'avanguardia non devono rappresentare un lusso ma semplicemente la vita moderna. Stiamo andando esattamente in questa direzione cioè per crescere la qualità mantenendo però i prezzi sempre molto molto competitivi. Grazie! Grazie.